In via Pantini abbattimento di 27 alberi e potatura di 44. Nei comparti 3 e 4 vi saranno ulteriori 24 abbattimenti e la potatura di 75 alberi che al momento possono ritenersi salvi rispetto all'aggressione del fuoco nel grave incendio del 1 agosto. Sono alcuni dei provvedimenti adottati ieri dalla Giunta Comunale di Pescara per mettere in sicurezza il tracciato e le aree verdi adiacenti, fruite dai cittadini per attività motoria e ricreativa nei pressi della riserva d'Annunziana. Lavori che, tempo permettendo, saranno completati tra fine gennaio e inizio febbraio e che sono propedeutici a quelli più ad ampio raggio che avranno la finalità della rigenerazione naturale del patrimonio andato distrutto la scorsa estate. A tal proposito, la Giunta ha votato la presa d'atto della relazione consegnata dagli esperti Nevio Savini, Dario Febbo e Gianfranco Pirone, nominati dal sindaco Masci, il quale aggiunge L'intervento che noi andremo a fare all'interno della Pineta sarà controllato e monitorato continuamente. Non ci potranno essere mezzi meccanici che potrebbero rischiare di rovinare i germogli che stanno venendo fuori. L'attenzione sarà massima. Elimineremo anche all'interno del comparto 5 i ruderi dell'ex vivaio che sono assolutamente pericolosi e inutili. Quindi faremo una pulizia molto attenta. Poi dovremo aspettare la prima stagione per capire quante piantine stanno rinascendo e su quello poi regoleremo i prossimi passi. Peraltro le risorse che abbiamo individuato sono risorse che ci sono state consegnate dalla Regione perché a seguito del Festival d'Annunziano ci sono stati molti introiti. Poi ci sono state molte donazioni sia al Comune che alla Regione. Tutte queste risorse le abbiamo messe insieme. Abbiamo messo ulteriori soldi del bilancio comunale. Quindi abbiamo già una disponibilità importante per riaprire quei comparti 3 e 4 e per intervenire inizialmente sul 5. Poi ci saranno le risorse dell'assicurazione. Quindi avremo i soldi per poter intervenire bene. L'idea complessiva è quella di riunire i comparti 4 e 5. Quello è l'obiettivo che perseguiamo da 20 anni e più con il PAN. Io mi auguro di poterlo realizzare.